Musica Ciao, io sono Alessio Modolo, ho 17 anni e vengo da Sanremo. La passione per il canto è nata quando avevo circa 8 anni, guardando comunque film, comunque andando a vedere musical, mi sono appassionato. Il primo film che mi ha colpito è stato Escol Musical. Allora, la canzone che sto per cantare è di Marco Mangoni, si intitola Venti sigarette. L'ho scelta perché mi piace molto il significato di questa canzone e comunque penso in alcune cose mi rispecchia molto. Allora, un altro mio hobby è la fotografia ed è nata grazie a mio papà. Non è poi per sempre, voglio vivere ogni istante, eri tu. Lei non è speciale, almeno so fingere bene, ero io. E soffio al vento di levante, gli alberi si spessono piegandosi un po'. E fumo venti sigarette, guardandoti su foto che io, io non scorderò. E non c'è niente di speciale su nel cielo, è solo un aquilone che resiste al vento gelito. Se a portarlo ero solo io, come sai, non è per sempre, per sempre. Sopra un pianoforte si sbarbaglia la mia mente, anche se... Io credo di star bene, spero che tu sia felice come me. Casa viaggio e poi l'amore, due occhi che guardano i miei e non sono i tuoi. E' una notte rosa in neve, ho voglia di camminare solo con me. E non c'è niente di speciale su nel cielo, è solo un aquilone che resiste al vento gelito. Se a portarlo ero solo io, come sai, non è per sempre, per sempre, non più. Per sempre, per sempre, non più. E penso che eravamo solo passi piccoli, che vanno in due diverse direzioni. E se per caso tu domani ti trovassi qui... Sarebbe bello dirti in fondo, va bene così, non c'è niente di speciale su nel cielo. E' solo un aquilone che resiste al vento gelito. Se a portarlo ero solo io, come sai, non è per sempre, per sempre, non più. Per sempre, per sempre, per sempre. Grande applauso per Alessio Modelo di Sanremo. Tieni questo microfono, questo lo prendo io, facciamo un passo avanti. Come ti senti innanzitutto? Emozionato. Ok, emozionato, beh è giusto che sia così. Hai cantato 20 sigarette di Marco Mengoni. Come è nata la tua passione per il canto? La mia passione per il canto è nata guardando film o andando a vedere musical da piccolino. Quindi anche film musical comunque ti sei ispirato un pochino lì. E il tuo cantante preferito è proprio Marco Mengoni o un altro? No, il mio cantante preferito è Avril Lavigne. Avril Lavigne, la tua cantante preferita di conseguenza. Avril Lavigne è una grandissima cantante. Senti, è anche un look molto ricercato, devo dire. Magari chiederemo qualche cosa al nostro Franco, che lui se ne intende molto. Ma è il momento però per il canto della nostra Elisabetta. Dell'Elisabetta, un po' della milanese. Elisabetta. Allora, a me è piaciuto molto. Sì. Complimenti. Devo dire mi piace l'alternanza di voce piena e falsetto. Mi piace tanto. Secondo me dovresti acquisire più sicurezza. Forse eri emozionato. In certi momenti sembra quasi che ti trattieni, invece devi buttarti di più. Perché la voce ce l'hai. E hai anche una buona tecnica, devo dire. Comunque non si finisce mai di studiare. Però devi esercitarti tanto e cercare di buttarti di più anche in queste alternanze tra voce e falsetto. Grazie. Mi piacciono molto. Per sentire un po' i nostri giurati. Franco, un look da rocker. Un look adeguato per un cantante. Non deve essere mica un impiegato di banca. Ma sta benissimo. Per me io non... I nostri giurati... Intenso. Mi è piaciuto. Sa interpretare bene. Può solo crescere. Grazie. Ma poi sei giovane. Quanti anni hai? Lì c'è 7. Tutti i ragazzi molto giovani. So. Va bene, allora insieme lanciamo il prossimo... Concorrente. Grazie. Grazie.